Ci troviamo a Taranto, presso i giardinetti Antonio De Curtis, o meglio presso la pinetta, la pinettina di via Ancona, alle spalle della chiesa Santa Rita. Alcuni mesi fa, due o tre mesi fa, abbiamo ripreso un'immagine davvero agghiacciante, oserei dire, un albero che a causa di fenomeni atmosferici, di una forte pioggia, si era letteralmente sradicato. L'albero, evidentemente le radici non erano particolarmente affossate nel terreno, per cui un po' di vento, un po' d'acqua, seppure copiosa, lo fece letteralmente volare in aria. L'albero, a distanza di pochi giorni, forse una settimana, due, il tronco è stato sezionato perché poi doveva essere ovviamente rimosso, non lo si poteva trasportare così grande e grosso come era. Ma a distanza di due o tre mesi da quel dì è rimasto tutto fermo. L'amministrazione comunale non ha provveduto a rimuovere lo stesso albero, quello che resta dell'albero, perché vedete c'è il tronco che è stato, ecco vedete ancora lì, ci sono i resti, le radici, il tronco. Il tronco è stato sezionato ma finora non è stato assolutamente rimosso tutto quello che è rimasto. In buona sostanza la pinettina di via Ancona continua a restare nel degrado e nell'abbandono più assoluto perché ci sono sicuramente degli altri alberi che a mio avviso sembrano abbastanza pericolanti, usiamo questa espressione, ma al di là di questo forse andrebbero fatte sicuramente delle verifiche per evitare che altri alberi non facciano la stessa fine di questo. È quel che più mi preoccupa, i danni. Mi preoccupano i danni che potrebbero ricadere sui malcapitati che dovessero trovarsi nelle vicinanze. Ma dico questo proprio fa capire come non c'è programmazione perché nel momento in cui si realizza, si interviene nel tagliare un albero, nella potatura, lo abbiamo visto anche per Via di Palma, poi non si procede alla rimozione di quanto rimasto degli scarti del materiale di risulta. È uno spettacolo indecoroso. Possibile che dopo la rimozione, dopo il taglio del sezionamento del tronco, nessuno si è impegnato a rimuoverlo? E come funzionano? Questo chiedo all'amministrazione comunale. Si procede a compartimenti stagno, io seziono il tronco e lo lascio così. Non c'è in automatico un'altra realtà, un'altra struttura, un'altra azienda, un altro organo operativo dell'amministrazione che va a rimuovere quanto è stato sezionato? E cosa si fa? Si lascia così nel degrado? Cos'è questo? Un immondezzaio pubblico? È un deposito? Guardate qui anche i rami gettati e abbandonati. E allora, scusate, siamo cittadini di serie A, di serie B, di serie C, di interregionale, di categoria. Cosa siamo? Eppure questo è un polmone verde che dovrebbe essere reso fruibile. Oltretutto ci possono essere anche dei rischi qui per i bambini che giocano. Vedete, lì c'è un'altalena e quindi quello che potrebbe essere un polmone verde, un parco pubblico attrezzato, si riduce invece ad un ammasso di pezzi di legno, di tronchi sezionati ed abbandonati. Per cortesia, per cortesia. Io, vedete, sto chiedendo interventi piccoli, non vi sto chiedendo di realizzare una fontana o chissà che cosa, ma quel poco, 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 per cortesia, realizzatelo.